Avanti! Confermata. E' vivo! colpo fulminante a terra attenzione un ammettamento nemico in arrivo un ammettamento nemico sopra di noi un ammettamento nemico in arrivo un ammettamento nemico in arrivo un ammettamento nemico a terra un ammettamento nemico in arrivo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lancio granata! La missione è quasi completata. Tenete duro. C'è una battuglia! È a terra! Incarico l'arma! Cambio caricatore. Un soldato! Bella vittoria. Abbiamo finito. Forse è un soldato! Grazie a tutti.